Buongiorno, buongiorno dal dottor Claudio Saracino, da Benessere Ipnosi Soluzione. L'ipnosi di CS è vera e professionale con la V maiuscola, ragazzi. Molto diversa, per non dire diametralmente, diversa gli antipodi rispetto a tutte le forme di ipnosi che trovi in giro. Detto ciò, riassumendo, oggi rispondo ad un signore che mi parla di alcol, alcolismo. Cosa può fare per eliminare l'alcolismo dalla moglie, che è praticamente alcolizzata? Le approvate tutte, zero risultati, eccetera, eccetera. Mi chiedeva se con l'audio mp3 di CS e no alcol riesce a eliminare completamente questo vizio dalla moglie, che non vuole l'aiuto, non vuole essere aiutata. Bene, gli ho risposto di sì. 101% sì, se e solo se segue alla lettera le istruzioni facilissime, a prova di nonno, a prova di pigro, a prova di idiota. Come funziona di solito per le persone che non vogliono essere aiutate né online, né andare dal vivo presso un professionista dell'ipnosi vera e professionale della propria zona, in qualsiasi parte del mondo in cui si trovano, ma soprattutto l'online. Io ipnotizzo online dal 2008 ad oggi, in tutte le parti del mondo, qualsiasi persona di qualsiasi razza, cultura, religione. Detto ciò, in questo caso dove questa persona, la moglie, non vuole essere aiutata, perché quando uno sprofonda nell'alcol, in questi vizi come la droga, l'alcol che è un'altra forma di droga, purtroppo non esiste soluzione, ragazzi. E non vogliono essere aiutati, questa è l'assurdità di queste dipendenze, assurde veramente. E che cosa facciamo? Li lasciamo lì buttati nel letto, accanto alla bottiglia, davanti alla tv, sul divano, ad aspettare la morte, oppure a litigare della mattina alla sera, a stressarci, a dispiacerci? Oppure, esiste una soluzione, anche a loro insapute, sempre a fin di bene, perché cambino direzione. Bene, esiste. Io nel 2008 ho sposato, mi sono laureato in ipnosi di CS vera e professionale, ho coniato questo termine, perché la mia vita è cambiata radicalmente e ho fatto cambiare vita a centinaia e centinaia di persone nel mondo. E ci sono tantissime testimonianze, anche di persone che non volevano essere aiutate, che con l'ipnosi di CS vera e professionale di Los Angeles, Beverly Hills, sono state aiutate. Cito qualche testimonianza di persone che anche con un solo audio mp3 di CS dal titolo No Alcolo se ne sono uscite al 101%. Strano dirai, ma è la verità. Seguendo, ripeto, le istruzioni facilissime alla lettere, sia loro stesse, sia anche altre cari della propria famiglia che non volevano essere aiutati. Poi c'è una minima parte che, proprio per il disagio di stare attenti a come utilizzare quest'audio mp3 di CS, perché la persona interessata non voleva l'aiuto, bene, anche lì ci è voluto un po' più di tempo, ok? Però se rifletti, il mio metodo, il mio metodo di CS, non richiede il tuo tempo. Zero secondi, ragazzi, zero secondi, zero salti mortali. È facile, è facile, anche se tutto il meccanismo, le suggestioni, le parole, il metodo stesso, hanno quasi un secolo di esperienza testato sul campo, ok? Testato i miei mentori in primis, professor Michelangelo Garai di Los Angeles Beverly Hills e la dottoressa Rina Brunini, due grandissimi dell'ipnosi vera e professionale, che hanno insegnato a me, hanno salvato mio padre e poi io ho insegnato a centinaia e centinaia di persone nel mondo a salvare se stessi e i propri cari da vari limiti, difetti e problemi. Per cui non devi credere, devi capire che è fattibile, che esiste la soluzione, ok? L'ipnosi di CS vera e professionale, sottolineo, non è una cura di nessun genere, per cui devi sempre andare dal tuo medico, tra lo specialista della salute, sia che ti trovi a Parigi, a Los Angeles, a Madrid, a Milano, in qualsiasi parte del mondo. Ma, una volta che ti hanno fatto la diagnosi, ti hanno dato le terapie, le medicine, eccetera, eccetera, se vuoi integrare parole di CS molto potenti e naturali per accelerare l'uscita, perché no? Perché nessuno obbliga che tu abbandoni le terapie o le cure, perché anche se nell'associazione Ipnologi Associati di Los Angeles Beverly Hills esistono, fanno parte psicologi, psicoterapeuti, medici di caratura internazionale, nel sottoscritto, negli associati, sono i tuoi medici, siamo i tuoi medici, né facciamo diagnosi, né cure, né terapie. Per cui, ti posso garantire che funziona così l'ITER, se vuoi aiutare tua moglie. Ti scarichi l'audio MP3 di CS, dal titolo No Alcol, e lo metti, il più delle volte basta questo audio, butta via orologio, tempo, calendario, concentrati sul fare, 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 perseverare, e prima o poi tua moglie uscirà, può uscire in un nanosecondo, può uscire in due nani secondo, può uscire dopo 30 giorni di media, può uscire anche di più, la minoranza. Però esce ed uscirà. Questo è poco, ma sicuro. Devi perseverare, perseverare, non arrenderti mai, e non guardare, non scavare la terra per capire se il seme sta dando alla luce la pianta. Ok? Lascia, 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 perché il subconsciente, la mente della persona interessata, funziona per ripetizione e per saturazione, ragazzi. Quindi bisogna saturarlo come il genitore e con il figlio. Bla, 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 per tanti anni, per tante volte, alla fine il figlio fa come il genitore, eppure magari razionalmente lo aveva sempre criticato e rifiutato quando era piccolino o adolescente. Poi esistono anche Audi MP3 nel DCS personalizzati, dove lì bisogna rispondere ad un questionario del dottore Saracino, uno degli associati, di associazioni pro-sociati, e si crea ad hoc per quella persona un Audi MP3 DCS, che io per il momento non ti consiglio perché non costa poco, ok? anche se la gestione poi delle vendite e l'associazione i pro-sociati che se ne occupa in base al paese in cui tu risiedi. Quindi bisogna specificare sempre la tua lingua, il paese e compagnia bella. Infine esistono le sessioni online con il dottore Saracino, che al momento però sono sospese per problemi di tempo. Il tutto, ripeto ancora una volta, per accelerare all'ennesima potenza il processo di uscita, di soluzione, dal tuo problema, dal problema del tuo caro. Però ti consiglio, con il cuore in mano, inizia da un solo Audi MP3, se perseveri il miracolo della mente tua o quella del tuo caro succederà, senza se e senza ma. Questo è il diter, ragazzi, ok? Non devi credere come dal solito, devi soltanto fare, devi pensare che l'ipnosi vera e professionale è riconosciuta dall'Associazione Medica Mondiale come medicina alternativa, io aggiungo anche complementare alla medicina tradizionale, nel 1958 dall'Associazione Medica Mondiale e dalla Chesa è stata riconosciuta con Papa Pio IX nel 1847, per cui ha tutti i santi crismi per essere accettata, provata. Il fatto è che in TV, sui social, sui giornali, non se ne parli granché, anche se ci sono usciti anche molti articoli in tutto il mondo, a Parigi, Bruxelles, Los Angeles, sull'ipnosi, però non è mai pubblicizzata come altre discipline tradizionali e non, beh, significa che la maggior parte della gente, del popolo, conosce soltanto l'ipnosi da spettacolo, l'ipnosi fuffa, l'ipnosi paura, bene, la dice lunga e a te e ai posteri l'ardua sentenza. Perché se tu te ne puoi uscire con una parola anche da solo, come nel caso dell'ipnosi di CS vera e professionale, perché di fatto si chiama auto-ipnosi di CS vera e professionale, perché tu ti scarichi l'audio mp3, molto facile, lo installi, premi play e cambi la tua vita, da così a così. Fammi tutte le domande al caso, ti risponderò gratis compatibilmente ai miei tempi e ai miei impegni, visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com, visita la mia fanpage su Facebook, ipnosi e auto-ipnosi del dottor Claudio Sarecino, iscriviti a questo canale YouTube, benessere, ipnosi, soluzioni di CS, il dottor Claudio Sarecino e fa share condividi con amici e parenti, perché può essere quel quid, quella molla, che può cambiare la vita a te, al tuo caro, e a chi ti ruota attorno, come è successo a me nel 2008, dove veramente sono cambiati in tutti i sensi immaginabili e possibili, sia somaticamente avevo mal di testa cronico, tutto di più, adesso non c'ho più nulla, e anche dal punto di vista economico, ragazzi, ok? Come ho detto tantissime volte, mi sto filmando, sto predicando, non per un tornaconto personale, che tu ne possa pensare, perché ho ceduto tutti i diritti all'associazione di ipnosi associati di Los Angeles, e perché sto bene per le prossime 37-40 vite, pur partito da studente lavoratore senza una rientasca in quella di Modena vicino a Milano, bene, la mia mission, la mia missione è quella di divulgare, diffondere il mio metodo, che non ha nulla a che vedere con l'ipnosi fuffa, l'ipnosi da spettacolo, l'ipnosi paura, l'ipnosi conformista commerciale di Milton Eriksson, Brian West, De Wellman, pur bravi, pur ottimi, per cui si parla di un altro mondo, di un altro mondo, e di un altro mondo, che ha cambiato la mia vita, una parte della mia famiglia, e centinaia e centinaia di persone nel mondo, ed esclamerai wow, senza se e senza male, e seguimi anche su Instagram e Twitter, benessere ipnosi soluzione di cesso, il dottor Claudio Serracino, e ricordati, ricordati, chi ti dice, non c'è nulla da fare, come la cufene, come altri dolori cronici, eccetera eccetera, non è vero, sta parlando un mentor, è più che un guru ragazzi, anche se sono un professionista dell'ipnosi di cesso, vera e professionale, io ho sperimentato, per il 99% tutto ciò che predico su di me, e i risultati si vedono, senza guardare l'orologio, se segui la lettera d'istruzione, facile, a prova di nonna, a prova di piccolo, a prova di idiota, e ricordati il dire, la prima fase, il rilassamento, la seconda è, gutta cavat lapidem, la goccia, hai visto mai la goccia nelle grotte, tun 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 tun, e alla fine, siccome il tempo si annulla, la pietra, la roccia diventa sabbia, sparisce, si volatilizza come il fumo nell'aria, per cui non credere, fai, 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 tanto non ti costa nulla, hai scaricato questo audio mp3, o lo scaricherai, puoi avere da una sera alla mattina, subito il miracolo della tua stessa mente, o quello del tuo caro, oppure ci vuole un po' più di tempo, anche se il tempo con il metodo di CS non esiste, un bacio e un abbraccio, dal dottore Claudio Saracino, e alla prossima.